Ciao a tutti da Yota e bentornati sul canale. Questa sera Sekiro è successa una cosa strana mentre girovagavo per la mappa sono finito in una grotta e ho incontrato questo questo essere che mi uccide un senza testa non ho assolutamente non so assolutamente chi sia e com'è però so solo che fa malissimo e e c'è il terrore e mi uccide sempre adesso il problema è che dovrei poter riuscirmi a forse riesco a trovare la strada dovrei riuscire a trovare la strada vediamo ci proviamo perché esatto vediamo perché forse non era di qua mi sa che non era di qua allora vediamo un attimo eh esatto allora io ho camminato di qua ho ucciso quello lì quindi di qua ok poi sono andato qua esatto sgattaiolato qua sotto esatto sì 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 è proprio questa la strada infatti qui c'è il cartello che dice qualsiasi cosa fate morirete ora il discorso che qua non c'è nessun save point quindi non so assolutamente a meno che c'è lì no non vedo niente praticamente quasi fa così poi quasi va qua e si fa questo salto della fede aggrappandosi si cammina di qua si sale si raccoglie l'oggetto che c'era e in più si può perché là c'è un'altra strada però a quanto pare non non va bene a meno che c'è un'altra strada però non di là non ci posso andare ora qua c'è la grotta il problema è che non c'è un save qua come potete vedere lui è là sotto eccolo lì qua c'è una vietta dove si esce ma non c'è assolutamente aspetta aspetta quello non l'avevo visto aspetta che forse troviamo qualcosa aspetta eh facciamo un po' di exploration che magari troviamo qualcosa un save più vicino magari che ne so ah ok va bene è un un mostro nibba ok confetto quindi qua ah ok ah hai capito dove siamo aspetta 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 allora c'è la porta qua aspetta ho capito ho capito ho capito ci siamo si si ok adesso sapete anche voi la strada che ho fatto e poi si fa così andiamo di qua e siamo praticamente all'inizio e possiamo andare a salvare abbiamo aperto la porta praticamente questo ci da la possibilità esatto di non fare un giro della madonna ok esatto quindi ci proviamo ma non so assolutamente come ucciderlo come fare quindi praticamente quello che abbiamo fatto è che adesso possiamo andare di qua e c'è questa porta che prima era chiusa ovvero questa e spuntare qua e adesso siamo dovremmo essere vicini alla grotta in teoria no sembrava che stavo cadendo di qua no ah 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 di qua c'è oddio non mi ricordo più ma proprio di là si può ancora scendere se noi scendiamo da qua dove spuntiamo c'è un'altra grotta lì eeeh allora di là lo sappiamo e di qua forse è la stessa mi sa di sì 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 è la stessa ok sì ooooh allora il problema è che non possiamo beccarlo quindi non possiamo fargli a meno che riusciamo a fargli l'attacco silenzioso tipo questo no ci becca ok adesso il discorso è che lui fa ste cose che ci rallenta quella roba lì ci rallenta di bestie e poi ci spara queste cose qua ho visto un qualcosa è veramente lento però a un certo punto si incavola ecco scompare e ci viene a prendere ed è veramente coriaceo eh non posso fare il roll dietro ma che è sta roba ma che è sta roba ah appena ci tocca è subito morte il problema è che non posso non posso rollare ci ha bloccato praticamente ecco vedi succede questo quindi quindi assolutamente non so come si faccia se voi lo sapete fatemelo sapere perché non ne ho la più pallida idea poi di qua invece abbiamo a quello lì lo possiamo fregare ma quanti sparano ah ok vabbè ora qui c'è il generale qui ho grato il generale esatto allora andiamo a prendere questo che ci serve facciamo un po' di così possiamo andare di qua e fare così facciamo un po' di danno dai poi ok no non dovevi cadere però aia troppi 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 ok dov'è questo che spara ah eccolo lì andiamo a ammazzare quello che spara prima ah volevo ma so corriacei però anche loro ok ora che abbiamo ucciso tutti e siamo senza vita ci curiamo perfetto qui c'è un altro uno e due qua dentro cosa c'è vediamo un po' niente ok però so per certo ah ah io andrei a salvare lì non so voi ma io questo lo prendiamo lo salviamo ok si va benissimo perché là sopra c'è un generale ah 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 aspetta ho visto una cosa qua allora allora di là si va per quello lì che ancora non ho capito chi è questo lo ammazziamo perché chiama tutti allora eccolo lì quello è il generale che onestamente non so come ucciderlo ma questo qua possiamo fare così ok ci siamo poi qua c'è il generale che dobbiamo stare attenti perché questo fa malissimo ok si chiama generale Tezeny Yamaguchi dove sono finito io volevo curarmi invece ho sparato un cosino va benissimo ok portiamocelo qua sotto così non ci spara quello lì vieni ma io ho girato però eh da poi c'è quello la sopra andiamo a uccidere prima quello la sopra questo qua ok poi ci prendiamo la vita e vediamo di uccidere questo generale qua e vediamo la sopra Aia Ok Ci abbiamo le compresse Grazie Perché siamo in fin di vita Ok vieni Bravo No Dunque capite il trucchetto Altra compressa Vieni No Ok Ah possiamo resurreggerci La resurrezio Bella resurrezione quando c'è Due Ma questo non lo para? Quindi fa solo due? Però non abbiamo più vita Dobbiamo giocare d'astuzio ok Dai Fai l'attacco super bravo Vieni Questa balanza Eh Questo Vieni Dov'è finito? Nooo, ok Un'altra resurrection? No, non ce l'abbiamo Ok Si può fare Si Allora, vediamo un attimo Questo lo possiamo fare L'altro sarà dura Bene No, non ce l'abbiamo è bemmo Non lo prendo Ok Va bene Ora c'è il generale di Yamakuchi E' rimasto lì, perfetto Se noi perdiamo l'aggro Possiamo fargli l'attacco dall'alto Secondo voi? Secondo me sì Secondo me possiamo anche Raggiungerlo Sembra che qua all'angolo c'è uno che Rompe le scatole però O no? Sì Ok Questo per forza dovevamo farlo Perché quella spara Quindi adesso noi perdiamo l'aggro Ok Adesso lui se ne va Torna al suo posto Giusto? Esatto Noi camminiamo in silenzio E da dietro gli facciamo almeno Il primo colpo La prima kill Assassinandolo Esatto E adesso ci divertiamo Con il resto Vieni vieni Ora Ok, quando fa l'attacco ci dobbiamo saltare sopra. Questa mi sa che l'avevo parata però, eh? Così. Via, sali. Salta, non ti incastrare. Vieni. Come vai, oh? Due, tre, quattro. Doh, sono caduto. Peccato, potevo fargli talmente male. No, mi fa male lui. Va bene, furbone. Non c'abbiamo più niente? No. Dov'è? Ecco... Lincalo. Lincalo. Aaaaaah! Come vai via! Sembra una ballerina così Dai Bella Grande Ora dov'è risave? Perché la prima cosa che voglio fare è andare a salvare Che non mi ricordo più Ah era lì That's it Per puro caso Lo abbiamo incontrato e Lo abbiamo ucciso Bene Ehm Quello che dobbiamo riuscire a fare E poi uccidere Quel tizio là sotto Quel senza testa Non ho assolutamente idea di come si faccia E non so assolutamente Come farlo Qual è la strategia Qual è Non so assolutamente niente di quel tizio lì Quindi qua ci prendiamo questo Qua ci prendiamo questo Ah qua mi sa che La serpent house Quindi Direi che se riuscite a darmi qualche consiglio su come uccidere il senza testa Sarebbe Sarebbe Molto apprezzato Perché assolutamente non so come fare Oh la 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 Il serpentone Mo Ah ok Sono morto Perfetto No Non sono morto Però devo andare di qua Ok Perfetto Vediamo cosa c'è di qua Scappiamoci Fuggiamoci Ti posso ammazzare No C'è un Dove siamo finiti Signori Non ho la più palida idea Di dove siamo E poi posso buttare io Mi sa di si E di qua Ma per forza di là Mi sa Ah quello lì Porco Giuda Mi sono spaventato Bene Allora Signori Abbiamo incontrato il serpente Il senza testa Incomincia a diventare Un po' spaventoso questo gioco Quindi Direi che Per oggi è tutto Il serpente è stata una bella novità Ma il senza teste È il senza teste Non so assolutamente come ucciderlo E il serpente Ho capito che bisogna evitarlo E quello non è un problema È perché stavo esplorando E Ancora Devo andare a visitare anche Quella zona lì Penso che si possa visitare Non lo so Ma Ci sono altre zone da visitare Sicuramente Spero Non lo so Boh Ah guarda dove il gecko Era là sotto Che figata Bene Quindi Per oggi è tutto E alla prossima Ragazzi Fatemi sapere come Come si fa Il senza teste Sono veramente curioso Perché se Riuscissimo a Droppare la sua spada Sarei veramente Veramente contento Quindi per oggi è tutto Fatemi pulire un po' di roba E Alla prossima ragazzi Ok Fatemi sapere Bye bye Aspetta che uccido questo E anche questo Io stavo salutando E Ma Sono morto Bellissimo Questo gioco Quante soddisfazioni Ti dà Oh No questa volta è vero Alla prossima Bye bye Bye